Arrestato dagli agenti della mobile forlivese a Cesena perché è trovato in possesso di 600 grammi di hashish. A fine rimanette, dopo alcuni giorni di appostamenti, un trentenne marocchino incensurato. L'operazione ha preso le mosse da alcune perlustrazioni effettuate sia nel comprensorio forlivese che nel Cesenate. Controlli che una settimana fa a Forlì avevano portato all'arresto di un trentenne italiano coltomente spacciave deteneva illegalmente oltre 4 etti di hashish e 130 grammi di marijuana. Servizi di osservazione e pedinamento hanno confermato un grave quadro indiziario nei confronti del giovane nordafricano attualmente domiciliato a Forlì in Popoli, disoccupato ma in regola con le norme di soggiorno. Diventato il corriere di riferimento di grosse partite di hashish nell'ambito provinciale non solo a favore dei connazionali domiciliati nel comune artusiano ma anche di giovani pusher italiani del Cesenate. Nel pomeriggio di ieri il marocchino è stato intercettato a Cesena in via San Cristoforo all'interno della propria auto ma all'alte delle divise, con tanto di paletta, il trentenne ha cercato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino della vettura per poi fermarsi a lato della carreggiata. All'interno dell'involucro, subito recuperato dagli agenti, c'erano seti di hashish suddivisa in sei panetti di un etto l'una di diverse tipologie e qualità in quanto tre di queste erano di color senape mentre le rimanenti avevano una colorazione tipo cioccolato fondente. Lo straniero è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Forlì.